Allora, un po' di guerriglia matematica. Recentemente mi è stato proposto il seguente problema. Trovare le soluzioni naturali, quindi interi positivi, di una particolare equazione che coinvolge sia il fattoriale sia una potenza. Farò fra qualche giorno, penso, un video con il problema affrontato da un punto di vista teorico. Questo non è particolarmente difficile e si può risolvere tramite una dimostrazione per induzione. Si scopre che questa equazione ha una sola soluzione. Però oggi, in questo brevissimo video, volevo farvi vedere come normalmente si può utilizzare un linguaggio come J, che è un successore ideale di APL, per in qualche modo esplorare un problema in modo interattivo e dinamico. Quindi spero che si veda abbastanza nello schermo. Questa è l'interfaccia testuale del linguaggio di programmazione J. E il problema, la cosa bellissima di J, è che i commenti si scrivono utilizzando NB, nota bene. Il problema è trovare le soluzioni naturali dell'equazione N fattoriale più N uguale, scusate, N alla N. Questo è il problema da cui partiamo. Allora, in J esiste già il fattoriale, che si scrive semplicemente col punto esclamativo, per esempio il fattoriale di 4 è 24. Ricordo che il fattoriale è 4 per 3 per 2 per 1. Il per 1 finale potrebbe anche essere omesso, chiaramente, ma è il prodotto di tutti i numeri da 4 fino a 1, numeri chiaramente naturali, che è appunto 24. E si abbreva col punto esclamativo. Da notare che in J l'operatore viene prima dell'argomento, quindi è punto esclamativo 4. Per esempio il fattoriale di 5 è 120. Il bello di J è che può lavorare su anche delle strutture che non sono solo numeri, ma per esempio degli array, degli elenchi. Il modo più veloce per realizzare un elenco di naturali è per esempio usando i punto e poi un numero. Per esempio i punto 10 genera un array con i primi 10 numeri naturali. Chiaramente J parte da 0 e allora posso applicare il bello di questi linguaggi vettoriali, che posso applicare l'operatore, a i punto 10 e ottengo i primi 10 fattoriali. Notate che giustamente J considera il fattoriale di 0 pari a 1, questa è la convenzione. E quindi abbiamo i primi 10 fattoriali. Noi dobbiamo trovare l'equazione, il fattoriale di un numero più il numero stesso. Quindi per esempio posso provare a fare il fattoriale di 5 più 5, che fa un numero piuttosto elevato. 3,6288 per 10 alla 6. Ah no, perché chiaramente, scusatemi, ho fatto subito un errore. Devo fare 5 più, se no lui fa il fattoriale di 10, che è 125, non 5 fattoriale. È 120 più 5 è 125. Scusate l'errore. Come vedete è piuttosto rapido lavorare in questo modo. E se torniamo all'equazione da cui siamo partiti, 5 alla 5 invece fa 3125. Quindi se provassi a scrivere l'eguaglianza, questa non è un'equazione perché non ha un'incognita, no? Beh, è un'eguaglianza. Scusate che ho cambiato tastiera recentemente. 5 alla 5. Solamente devo mettere una serie di parentesi. Vedete che da 0. Questo 0 significa essenzialmente che è falso. Ok? Ma sarà sempre falso. In realtà è abbastanza veloce verificare che per 2 invece l'eguaglianza è vera. Infatti restituisci 1, 1, 0, falso, 1, vero. Quindi dicevo 0 è falso, 1 è vero. Chiaramente così non stiamo dimostrando granché. Abbiamo solo verificato che l'equazione è falsa per il valore di n uguale a 5 è vera per n uguale a 2. Ma intanto abbiamo trovato una soluzione. E un'altra soluzione... Chiaramente 1 no. È falso. Però J mi dà vera la soluzione con n uguale a 0 per il semplice fatto che abbiamo detto che 0 fattoriale è 1 quindi 1 più 0 fa 1 e J considera 0 alla 0 ops, 0 alla 0 1 che sui naturali è una definizione abbastanza coerente poi invece sui reali ci possono essere delle difficoltà no? Un limite di 0 alla 0 è un limite in forma indeterminata dipende un po' dalla funzione ma abbiamo quindi una o due soluzioni a seconda che si voglia prendere 0 nei naturali ma la soluzione per n uguale a 2 c'è da chiedersi se ce ne sono altre chiaramente i numeri naturali sono infiniti e allora come dicevo si può fare una dimostrazione per induzione che da n uguale a 3 in poi non ci sono ulteriori soluzioni quindi le uniche due soluzioni sono 0 se si accetta e sicuramente n uguale a 2 Come fare? Beh, intanto è abbastanza scomodo dover mettere il numero a mano in questo modo la J fornisce alcune interessanti caratteristiche come tutti i linguaggi di programmazione intanto posso definire una funzione in maniera, si dice, implicita in questo modo la scrivo e poi la commento questo è quello che in J si chiama un gancio per esempio se applico questo gancio a 2 ottengo 4 questa scrittura cosa dice? prende gli operatori più e fattoriale gli passa un argomento 2 e calcola l'operatore di destra sull'argomento quindi fa il fattoriale di 2 che è 2 e poi prende il risultato e applica l'operatore di sinistra a il risultato e l'argomento quindi otteniamo 2 più 2 quindi in un colpo solo abbiamo la parte di sinistra e chiaramente posso fare questo da 1 a 10 e ottengo il fattoriale più il numero quindi 0 fattoriale più 0 1 fattoriale più 1 2 fattoriale più 2 eccetera eccetera in questo caso fino a 9 e la stessa cosa la posso fare un trucco analogo con l'esponente qui l'esponente si può fare in questo modo prendo l'esponente e poi faccio questo trucco prendo questa parentesi quadra che praticamente duplica l'argomento quindi se faccio quest'operazione lui cosa fa? prende 2 lo duplica quindi mi restituisce 2 e poi usa 2 e 2 quindi l'argomento e l'uscita dell'operatore di destra come argomento dell'operatore di sinistra che è l'elevazione a potenza e come prima posso a questo punto calcolarlo in i.10 e ottengo n alla n per i primi 10 numeri naturali partendo da 0 si vede subito da questo primo confronto che l'operatore n la n sembra decisamente più grande dopo il valore n uguale a 2 rispetto all'operatore fattoriale più n come si potrebbe concludere questa cosa? intanto chiamiamo e potremmo fare così f uguale a due punti questa è una definizione quindi definisco l'operatore che ho definito prima quindi col più e il punto esclamativo e lo chiamo f per comodità g faccio una cosa analoga e quindi è elevazione e duplicazione quindi f di 10 g di 10 si vede che insomma per esempio per n uguale a 10 il membro di sinistra dell'equazione il membro di destra dell'equazione hanno dei valori molto diversi g è molto più grande e la dimostrazione per induzione appunto mostra che per n maggiore di 3 è l'operatore di destra quindi quello che ho chiamato g è sempre più grande dell'operatore di sinistra possiamo infine usare un ulteriore trucco di j che si chiama quello di prima abbiamo visto è un gancio questo invece è un'altra forma ed è la seguente per esempio f minore g per esempio 10 mi restituisce 1 che è vero cioè applica f all'argomento che è 10 applica g all'argomento che è 10 e i due risultati li usa come argomenti dell'operatore in mezzo che è il minore effettivamente è vero che applicate a 10 l'operatore di sinistra e l'operatore di destra sono uno minore dell'altro e a questo punto è facile verificare per esempio i primi 100 valori vedete che i primi 3 0 0 0 vuol dire che è falso non è vero che f è più piccolo di g ma poi da un certo punto in poi sembra non è una dimostrazione sembra possiamo mettere anche l'uguale anziché minore e vedete che per 0 il primo questo qua il valore 0 i due membri sono uguali sinistra e destra per 1 no per 2 di nuovo uguali e poi sono tutti diversi tra loro come faccio a sapere che sono tutti zeri per esempio posso fare una somma in j questa operazione qua dice applica la somma con questo slash storto a tutti gli elementi dell'array che si trova a destra come vedete viene 2 ci sono solo 2 1 in quell'array e basta chiaramente posso provare ad andare un po' avanti il problema è che poi superato un certo valore gli operatori escono dal range possibili di numeri per esempio se provo a fare 200 alla 200 j mi risponde con un underscore vuol dire che non riesce a fare un'operazione così grande e quindi questo permette in qualche modo di verificare solo fino a un certo valore però intanto abbiamo verificato che per i primi 120 numeri naturali effettivamente ci sono solo due soluzioni che sono 0 e 2 e abbiamo visto prima a mano sperimentando un po' con j che l'operatore di destra torna all'equazione di partenza quindi questo operatore qua sembra essere per n maggiore di 3 maggiore o uguale a 3 scusatemi sempre più grande di questo e questa cosa effettivamente poi si dimostra tutto questo per dire che è possibile fare in matematica delle dimostrazioni chiaramente rigorose che in questo piccolo video non ho fatto ma anche sperimentare con un linguaggio come j chi segue il mio canale sa che ho già fatto dei video in passato è un linguaggio che mi ricorda la mia gioventù perché ho fatto la mia tesi laurea in APL e j è una sorta di successore sempre dello stesso creatore Iverson che ha creato sia APL che j va bene per questo piccolo video di guerriglia è tutto ci tenevo a farlo perché sono un po' di mesi che non facevo video il prossimo farò invece con la lavagna virtuale la dimostrazione che le uniche due soluzioni sono appunto 0 se si accetta e 2 e non ci sono altre soluzioni non solo fino a 100 ma all'infinito faremo una dimostrazione per induzione per ora è tutto arrivederci grazie a tutti